Il mio nome è Augusta e tutta la mia storia è costruita storta e le cose si sono messe come meglio si poteva. Ma che saccio? Ma so ancora ricordare e se scrivo le cose si mettono in ordine, almeno un po'. A volte mi prendo una confusione. 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 A volte mi prendo una confusione.